Salve a tutti ragazzi sono GeekTree e benvenuti in questo nuovo video di Super Meat Boy E oggi sarà un video diverso perché gioco con il controller però Questo tipo non è un controller dell'Xbox ma è un controller Una cosa che l'avevamo già fatto vabbè Un controller tipo che ho comprato dai cinesi E ha tutti i comandi al contrario E volevo sclerare un po' di più Ok tipo per saltare devo schiacciare il cerchio Aspetta per correre Ok Però è un po' più comodo anche se ci sono i comandi un po' sballati Ok E adesso Dai Sì Lei Dai 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 sì Beh oggi sono un po' più fortunato Quindi riusciremo a fare un po' più di livelli in più Un po' più di livelli in più No questo no Iniziamo Iniziamo Vabbè non so se avete sentito la macchina che E dai Fuoco di merda Fuoco di merda Fuoco di merda Sì 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 Credo che M Veloci zero costa a parte Comunque Farò il più pesto video di Aerobrine Ma non li sto facendo adesso perché Ho cancellato per sbaglio il punto a minecraft Sì 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 No 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 Ce la dobbiamo fare Raga no Cazzo Uno No Uno Uno Due Uno Due Due Tre 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 Quattro Uno Due Tre Quattro Cinque Fermati Ok Uno Due Tre Quattro Cinque Sì Cazzo Uno Due Tre Sì No Sì No Sì No No Allora Uno Due 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 Tre Dai No non ce la fono 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 Ma in certi livelli ci devo stare per forza mezz'ora no? Dai 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 Cazzo 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 No Aspetta Lo provo a fare Con la tazzo Tira Vediamo se Dai con la tazzo vaffan riprendo con il controller con il joystick si permette poi di merda dai 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 gesù sono io e bete ho capito come si può forse 3 4 5 si no mi ero dimenticato si mi ero dimenticato ma io non parlo ok un gioco di merda si dai vai si dai si si vai vai vede no vede dai tipo la ce l'ho segnata a b la no di nuovo a questo lo riproviamo a farlo se non riusciamo cambiamo livello adesso si cambiamo livello perchè devo muovere l'altro dai ok si questo io tipo dire ora si non è ora che faremo cosa è cosa faremo ok ci siamo vai si vai vai si sono un pro sono un pro volone aiuto si ahhh ma questo sarà semplice si non avevo pensato diventato un pro ormai non c'è niente da fare e adesso e adesso è andata via voglio restare solo oh mio dio mi stavo per suicidare quale si usa per correre questo 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 oh oh un pro 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 si oh non me non me ne ho accorto credo che potevo scendere vabbè ormai sono un pro posso fare tutti i livelli paxi vieni qua si ok oh mio dio mi ero bloccato vabbè proprio dentro mi sono ficcato dai che sono un pro sono un pro sono un pro non un pro cioè mi dimentico si oh mio dio si dai oh mio dio si grid a più mia madre che fa con l'aspirapolvere particolari oh mio dio ok ok che ce la faccia cosa è ok ora dovrei fare così si aspettiamo che vai si dai voglio più livelli più difficili è morto il coniglietto ok questo è un po' difficile dovrei fare provo a fare cose no ok dovrei passare oh si no eh dai vai vai che cosa possiamo fare senza parole senza parole sono stonato vai vai si no vabbè dai mi sa che questo devo fare sì dalla regia dicono che sta vincendo la juve 2 a 1 che è segnato ok niente devo rifare questo livello ok niente ok la juve ha vincito a 1 bene non so chi abbia ha segnato questo è un livello difficile bene cazzo se faccio quasi 2 a 1 ancora la juve contro il pescar non ho fatto anche fare il gol vabbè non parliamo di calcio e dai cazzo ma vabbè niente parolacce su youtube aiuto uno cazzo allora uno due cazzo non mi sono potuto io direttamente mamma aspetta eh da mia madre uff no dai si 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 vabbè poi vabbè sbaglio sempre allora siamo al diciannovesimo livello questo che è il livello se uff 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 si i'm a pros pro evolution soccer aah ah i mi uff 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 E dai Dai Sì Allora dovrei fare così E cacchio salta più in alto Allora no Emo qua come caccia No dai Yes Dai Allora Uno E dai Dai Faccio casi Aiuto E sono un genio Dal male Si sta distruggendo il mio dito Fuori di Di muovere la manovella No il La cosa L'analogico Dai che ce la possiamo fare Dai che ce la possiamo fare Dai che ce la possiamo fare Ok la passo d'acqua C'è così Passo checca Dorme Questo si fa così Uno due Così Così Sì 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 Da Gic Emo come faccio Io l'ho detto che sono un genio Lo riconfermo Sono un genio del male Ok Questo è il dilemma Vaffan È arrivata mia madre È arrivata mia madre Un attimo Ma oggi si Fai troppo l'intruso Sì Sì Ma Uresti Dai No 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 Bene Miamo a trasciniamo Ciao E dai Intrusa di mia madre Che me ne rompe Dai Sì Allora Qui Faccio così E qua Faccio cosa Che culo E qui Sì Questi partono Sì Sì Mi vuolta Forza la mia madre Next level Facciamo l'ultima Sì Dai Pi' difficile Sì No 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 Genius 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 Dai Dai Si Dai Dai Es que Corriamo Sì No 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 Ok Non devo fare L'umoni molesti Questo livello È il livello 20 Mi sa che è l'ultimo Di questo Come dire Livello Cioè Livello Avete capito E niente Ed è difficilissimo Porca Sonza Dai No È Si Ora cosa devi Ah Qua Potre Potre Ofresce I Allora Paura Sì Dai Ma sä Peter Poi È Poi Ascendere! E poi! Poi c'è il vostro dano? E dai! Potpuro, prendiamo! Non c'è la prima fiuma! 1, 2, 3, 4... 1, 2... 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ... ... ... ... ... ... ... ma che cosa? Dio 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.